Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo 59esimo episodio della nostra serie sulla Master League, signori, su ISPRO Evolution Social 2, nella nuova avventura con l'Inter, signori. Allora, noi veniamo da uno scorso video, sì, dallo scorso video in cui abbiamo perso pesantemente contro il Marsiglia 4-0, ma questo non ci assolutamente butta giù di morale, signori, anzi, anzi, ci spinge a cercare di migliorare sempre di più. Siamo a livello difficile, quindi una nuova sfida per noi, dopo che abbiamo vinto tutto con la Roma a livello normale, proviamo a replicare i successi a livello difficile. Detto questo, signori, io vi ringrazio per... sì, vabbè, già stavo a fare la chiusura del video, vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per il like, per i commenti, per i suoi senti e per il supporto che date a serie al canale. Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo, procediamo col prossimo incontro, che non mi ricordo con chi cazzo lo giochiamo, ma questo non ci preclude niente, signori. Qualsiasi squadra lo troveremo sul nostro cammino, noi lo dovremo affrontare come se non ci fosse un domani. Quindi andiamo un attimino a ricambiare la formazione e... non so se ci conviene continuare a giocare. Continuiamo a giocare così, signori, continuiamo a giocare così, solamente che mettiamo tutti i difensori un pochino più indietro, perché noi col Marsile abbiamo preso troppe pere, signori, e questa cosa non va bene. Gli esterni li proviamo a tenere comunque avanti, magari un pochino così, così comunque ci fanno anche un po' più di copertura, anche se non serve assolutamente a nulla, lo so perfettamente. Il trequartista lo teniamo lì e Castello lo mettiamo un pochino più indietro, magari un peretto più indietro. La formazione è questa, dobbiamo fare dei cambiamenti? No, forse l'unico che dobbiamo mettere è Valery a posto di Ducic. Ducic, 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 Ducic... Ah, no, aspetta, no! Fermi tutti i cazzarala! Mi manca l'uomo simbolo di questa, delle mie serie, ovvero il buon Carlo Porlanden. Dai, Porlanden, sei tutti noi. Mettiti davanti lì e speriamo di bloccare il Dortmund, signori. Siamo a San Siro, siamo a casa nostra, non possiamo fallire la seconda partita del campionato. Ci servono i punti, signori, perché... perché ci servono i punti, signori? Perché mi sono reso conto che aver perso Babangita è qualcosa proprio di terribile. Di aver perso Babangita è... cioè, era il mio uomo squadra, il mio uomo squadra, il mio uomo fai tutto. Mi sono reso conto che il mio gioco era molto basato sulle sue accelerazioni. Che buco difensivo! Mamma mia, che palo! Chi ha fatto palo? Non lo so, però va bene, siamo stati graziati, signori. Dopo tre minuti, come dire, ho abbassato la difesa per dire, oh no, così con la difesa più bassa riusciamo sicuramente a tenere meglio difensivamente. Porca miseria, penso che siamo alla difesa alta, praticamente. Mannaggia della miseria, non riesco a fare nulla. Attenzione, attenzione, ci prova dalla distanza! No, 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 no scoraggiamoci, non scoraggiamoci e non scoraggiamo soprattutto. Non scorreggiamoci, no dai, ma che cazzarola fai? Mamma mia! Mamma mia, siamo stati graziati per la seconda volta, per la seconda volta in otto minuti di partita, signori. Cioè, la partita è ancora neanche iniziata e noi ci hanno già graziato due volte, ma è normale, secondo voi questa cosa? Decisamente no, decisamente no. Dai, ma che cazzarola, mamma mia! Sono tornati quelli che non sanno fare passaggi, signori, sono tornati quelli che non sanno fare passaggi. Mai posso giocare con questi, mai posso giocare con questi. Ridatemila a Roma, ridatemila a Roma. Voglio ridiscuterla, signori, voglio farmi un altro campionato con la Roma. Voglio farmi un altro campionato con la Roma, mannaggia! Voglio rifarmi un altro campionato con la Roma, sì, ci ho ripensato. Ma a chi? A chi? A chi? Avevi tutta la squadra davanti, avevi tutta la squadra vicino. Questi manco sanno... Mamma mia! Se uno si fa prendere dal nervosismo è peggio, signori. Se uno si fa prendere dal nervosismo è peggio. Bello che... Ricordo un vecchio commento sotto uno del... sotto un video di una partita in cui dici se tu tenessi meno premuto il tasto della velocità, faresti il doppio dei gol. Proviamo a giocare in maniera più classica e dolce. Proviamo a giocare in maniera più classica e dolce, senza premere troppo... Madonna mia! Che cazzo di piedi c'hai! Come ce li hai questi piedi? Montati al contrario! Come ce li hai questi piedi? Mannaggia a te! Mannaggia a te! Come ce li hai questi piedi? Montati al contrario! Proviamo a giocare con calma, signori, con calma, con calma, senza... senza correre. Il gioco della calma, il gioco della calma, senza... senza esagerare, senza esagerare, senza esagerare, senza esagerare! Porca miseria, però senza esagerare! Da dove gliel'ha fatta passare la palla non lo so, signori. Da dove sono riuscito a far passare quella palla non lo so. Però noi dobbiamo giocare con calma, signori. Nuova, nuova, nuova teoria. Gioca con calma, gioca con calma e si sereno. Gioca con calma e si sereno. Uh, uh, abbiamo provato un pallonetto! Forse stava arrivando sulla luna, signori. Un pallonetto un po' eccessivo, un pallonetto un pochino eccessivo. Ivanov, ok, calma. Calma e relax, calma e relax, calma e relax. Non ci, 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 non ci insulta nessuno. Calma e relax, bravo. No, porca, porca. Relax, yoga, yoga tutti assieme, signori. Ripetiamo, ripetete dopo di me. Om, om, om. Calma, 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 calma. Non dobbiamo, non dobbiamo avere fretta di creare situazioni. Eh, vabbè, dai, cazzarola, hai fatto destra-sinistra, 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 si era confuso pure quello del Dortmund. Si era confuso pure quello del Dortmund. Si sono confusi tanto che l'hanno buttata fuori, che l'abbiamo buttata fuori. Calma, calma. Grandissimo uomo che si è messo davanti. Non so chi era, però ha fatto proprio da muro umano. Guarda, lancialo con calma, con calma, 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 calma. Mannaggia, mannaggia. Sempre davanti sono, mannaggia a loro, sempre davanti sono, sono sempre davanti. Dai, però che cazzarola, dai, che cazzarola. Calcio d'angolo al 39, dai. Non lo devo dire, non lo devo dire. Siamo ancora al quarantesimo. Non devo dire assolutamente niente. Non devo dire assolutamente niente. Grande. Calma, relax, calma, relax. Calma, spimas. Fatti una passeggiata, bello, così, tranquillo. Cioè, mi sembra un poco esagerato, però, dico. Un poco, un poco esagerato. Cioè, troppa violenza. Va bene, ci stiamo facendo innervosire, perché giochiamo, giochiamo in maniera soft. Giochiamo in maniera soft. Giochiamo in maniera soft. Non corre, non corre. Stai calmo, stai calmo. Calma e stanco e freddo. 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 Bravo, bravo. Visto, siamo riusciti a creare qualcosa? Calma e stanco e freddo. Crossala. No, mannaggia. Dagliela. No, mannaggia. Dove essere un passaggio di testa facile, facile. Dove essere un passaggio di testa facile, facile. Albiro, fischi, grazie. Dove essere un passaggio di testa facile, facile. Lui la metteva a terra e segnavamo. E invece non ci siamo riusciti. Va bene, va bene. Calma e relax, signori. Calma e relax. Come il primo tempo. Calma e relax. Calma e relax. Calma, calma, calma. Non ci facciamo agitare, prendere dall'agitazione. Non ci facciamo prendere dall'agitazione. Bravo, va bene. Rimesso laterale. Rimesso laterale. Calma e relax. Calma e relax. Ducic, Ducic. Cercalo. Cercalo però in maniera giusta, mannaggia a te. Ximenes. Ximenes di nuovo per Ducic. A due è una montagna umana, signori. A due è grosso quanto non so che cosa. No, 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 no. Fuori subito, mamma mia. Pericolosissimo quello che stava per succedere. Dai però, che cazzarola. Se fai uno stop, devi riuscire ad essere in grado a rientrarci subito, no? No, no. Perché non c'è voglia di fare i passaggi? Perché non c'è voglia di fare i passaggi? Dimmelo. Qual è il tuo problema? Hai il dolore alle caviglie? Ti fanno male le caviglie? Non riesci a fare un passaggio giusto? Porca di una miseria infame? Che pro... No, vabbè, dai. Nessuno che lo va a difendere. Bene. Riusciamo a evitare di fargli tirare. Grazie, grazie. Vi ringrazio. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Calma, calma e relax. Calma e relax. Confondiamoli, confondiamoli. Bello così. Bravo. Esprimax, tu crossa, tu credici. Peccato che abbiamo Castello là davanti. Che alto un metro la tic tac. Non c'è più. Enrique, quantomeno. Bello. Ma per chi? Ma vabbè, però è perdita di tempo. Va bene, va bene. È perdita di tempo. Come se non ci fosse un domani. Se Castello riusciva a recuperare sta palla, era tanta roba. Ha due enorme comunque. Ha due sì. Ha due è proprio grosso. No, brutto fallo. Dai, cartellino giallo per Miranda. Ma no, no, no. Dai, esagerato, esagerato, esagerato. Però loro con questa punizione la possono buttare in avanti. Ma noi la recuperiamo. Bravo, bravo. Visto, visto? Calma e relax. Calma e relax. Facciamoli innervosire. Calma e relax. Calma e relax, signori. Calma e relax. Bello così l'apertura sulla fascia. Calma e relax. Calma e relax. Mannaggia. Troppo relax. Troppo relax. Troppo relax. Aia, 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 aia. Ivanova è tua. Ok. Allora, la tecnica del calma e relax sta funzionando. La tecnica del calma e relax. Ma che cazzo la dici che la stavo passando io? L'avevo passato io sta palla, mannaggia. Calma e relax. Calma e relax. Calma e relax è finita. È finita il calma e relax. Non ci posso... No, 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 no. Partiamo malissimo, signori. Partiamo malissimo. Partiamo proprio male. Partiamo proprio male. Ma per chi? Mannaggia. Fino a quando avevamo i giocatori per farle queste cagate? Poi le recuperavamo, le palle. Così non ci riusciamo più. Mannaggia, 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 mannaggia. Ma no, dai, però, però, sbagliamo anche questi movimenti. Sbagliamo anche questi movimenti. Ce la fai evitare? Bravi. Sì, vabbè. Ti ho detto, ce la fai evitare la rimessa laterale. Dove l'ha tirata un pochino più avanti. Sempre rimessa laterale. Ivanov. Andi, Ivanov. Vabbè. A chi? A chi? A Stromer. Vabbè. Stromer per la... per Ximenez. Ximenez. Ximenez riesce a fare movimento. Ah, 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 ah. Mannaggia, la tua sorella. Tua sorella Giovanna. Dai, però, mamma, che siamo lenti nei passaggi, nei controlli, in tutto. In tutto sono lenti questi. Questi sono lenti in tutto. No, vabbè, dai, però. Proprio così, però, che cazzo, vengono i nervi, vengono, vengono i nervi. Non riusciamo a fare un'azione. Non riusciamo a fare un'azione d'attacco, signori. È gravissima questa cosa. Non riusciamo a fare un'azione d'attacco. Io non so cosa inventarmi. Non so cosa inventarmi. Completamente. Non so cosa inventarmi completamente. No, il palo. No, abbiamo preso palo. Abbiamo preso palo. Abbiamo preso palo. Non ci posso credere. Abbiamo preso palo, signori. Abbiamo preso palo, 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 abbiamo preso pal Bolatta mio Bolatta mio sei un pippone Sei un pippone dovevi semplicemente No Ivanovescivano Abbiamo preso pallo 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 Ripeterò all'infinito Abbiamo preso pallo Abbiamo preso pallo Sì più larga la palla per Espimas Più larga Abbiamo preso pallo L'avevamo pareggiata L'avevamo pareggiata L'avevamo pareggiata L'avevamo pareggiata L'avevamo pareggiata E invece abbiamo preso pallo Va bene va bene Seconda sconfitta signori In due partite Seconda sconfitta in due partite Dopo quella con Marsiglia Per 4 a 0 Arriva La seconda sconfitta Contro il Borussia Dortmund 1 a 0 Va bene Avevamo tenuto un tempo Giustamente 15 dire a 4 Ci hanno asfaltato Come poche cose al mondo E va bene signori Ma noi non ci buttiamo giù Noi non ci buttiamo giù Non ci buttiamo giù Ce la faremo Ce la faremo Rimaniamo fermi ancora 20 punticini Ma non ci scoraggiamo Detto questo signori Io vi ringrazio Per guardare questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per il supporto Noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao 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 Ciao